Un'iniziativa lodevole degna di nota per vari motivi. Attivo 1 che non bisogna mai dimenticare da dove veniamo, la nostra origine e la nostra storia. Quindi questo ci farà ricordare da dove siamo arrivati, perché noi siamo qua, perché prima di noi qualcuno è stato qua. Un'altra cosa che viene di nota è che persone di Imperia che comunque sono notte, che grazie a loro possibilità e a loro carriera sono diventate famose a livello nazionale e internazionale, abbiano ancora a cuore la nostra città e prestino gratuitamente il proprio no-ahora, la propria voglia di diventare certifizioni. Così come ho fatto io, in senso civico, candidato il mio sindaco, affinché dalla società possa avere un beneficio e possa avere una crescita. In questo ringrazio infinitamente il sentimio, che conosco non da molti anni, però diciamo che in poco tempo è già stato sufficiente per capire che pensiamo differente allo stesso modo. E quindi vi ringrazio nuovamente, è un'iniziativa veramente bella di nota, la Ministra Comunale l'appogge fortemente e cede la parola di sentimio. Grazie. Grazie.